Secondo posto nella gara nazionale CAT per il 17enne Matteo Castronovo, studente dell'Istituto Tecnico, Economico e Tecnologico Leonardo da Vinci di Caltanissetta. Lo stesso è infatti partecipato ad una competizione nazionale indetta dal MIUR, dedicata agli studenti del quarto anno degli istituti tecnici ed indirizzo costruzione, ambiente e territorio. Il bilancio è stato molto positivo, mi esprimo meglio. Portare in alto il nome della scuola fino a Cuneo è stata anche una responsabilità abbastanza grande, avere anche tutti i miei compagni che mi sostenevano, avere anche professori che costantemente durante l'anno mi hanno sostenuto e invogliato a fare sempre più questa esperienza, che comunque è risultata abbastanza proficua. Ringrazio anche la mia preside che mi ha permesso di poter svolgere questa attività, la dottoressa Santaglia Cuzzo, e ringrazio anche sempre di nuovamente tutti i miei professori. I primi di maggio il giovane Matteo ha affrontato le prove previste dalla gara e per l'esattezza il 3 maggio la prova di progettazione e costruzione impianti, nello specifico veniva richiesto di progettare un villaggio dedicato all'accoglienza delle vittime di violenze e di chi si allontana dalla guerra, mentre il 4 maggio si sono svolte le altre prove, cioè gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro, topografia ed estimo. Circa 60 ragazzi provenienti da tutta Italia che hanno partecipato alla competizione svoltasi a Cuneo, nell'Istituto Bianchi-Verginio e tra questi anche lo studente nisseno, accompagnato non soltanto per il viaggio, ma anche in tutto il percorso di preparazione dal docente Calogero Invantolino. Le prove appunto comprendevano tutto il programma del quarto anno, specialmente topografia, estimo e sicurezza nei luoghi di cantiere. E mentre si attendono i dettagli sulla premiazione, il 17enne pensa al proprio futuro, consapevole delle scelte sia dal punto di vista degli studi universitari che degli sbocchi professionali. Sono sempre più sicuro della strada che sto intraprendendo. Credo di voler continuare con l'università, credo nell'indirizzo di ingegneria civile o ingegneria energetica. Ho messo già in atto molte delle mie competenze in alcuni studi professionali, infatti ringrazio anche loro, perché anche merito loro, se sono riuscito ad ottenere questo grande risultato.